Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Patrick e oggi giocheremo a Breaking Point per l'episodio 4! Andiamo! Oh, Gran Premio dell'Inghilterra! Due settimane dopo! Allora, niente, il ritorno, tutti i mail, andiamo alla gara, vai! Siamo a metà gara d'Inghilterra. Dopo la Fantastic Q3, la prossima gara di Inghilterra è una delle migliori della sua carriera, ma ha una foratura all'antirante. Ah, bello con la foratura! Bella questa! Questo con la foratura è uno dei più belli. Andiamo, dai, dai, dai! Con la foratura, vai, box, cambia le gomme, bellissimo, bellissimo! Forza! Andiamo! Ok, dobbiamo portare la macchina ai box. Forza, forza! Andiamo subito ai box. Box, box! Ok. Dobbiamo cercare di riuscire a fare... Non so qual sia l'obiettivo. Però vediamo. È brutta la gomma. Puoi vedere la gomma è al 100%. La foratura lì. Cavolo. Vabbè. Pronti, vai! Ci proviamo adesso. Ci troviamo... Ah! Arriva a punti, decimo posto o superiore. Ah, ok. Dobbiamo arrivare a decimo. Ok. Sì, si può fare, si può fare. Se si guida bene si può fare. Hai ancora tempo per andare a punti, Aiden. Ricevuto. Sì, ricevuto. Proviamoci. Ci proviamo, anche se sarà dura. Quindi inizio entra a vedere, forza! Usiamo un po' di airs anche qua. La COPS. Oh, non gira la macchina COPS. Aia! Non ha girato la macchina. Cavolo. Sarà una gara difficile lo stesso. Sarà una gara difficile. Ci dobbiamo provare lo stesso. Non usiamo airs per ora. Ora stiamo tranquilli. 2,8, 2,9. Ah, difficile. Difficile andare lì a riprendere. Però vedo che sono tutti lì. Cavolo. 2,1. Ok. Si inizia a guadagnare. Forza! Ce la possiamo fare. Dai, che abbiamo guadagnato 1,6. Piano qua. 1,5. Forza! Dai, che li riprendiamo. Abbiamo già ripreso Magnussen. Sembrava che la macchina non andava. Incredibilmente ce l'abbiamo fatta. 6 decimi. Ah, non si è riusciti a prendere il DRS. Fuxia nel primo settore. Ci prova all'esterno. Oddio! Dentro all'interno! Capolavoro! Primo sorpasso. Ok, bel sorpasso. Grazie. Forza, forza. Andiamo a riprendere anche Ricciardo. Capolavoro. Andiamo, andiamo. Dai, che li riprendiamo. Vai. Forza, cops. Si dà tutto adesso. 1,1 su Ricciardo. 1,1 su Magnussen. Ci avviciniamo alla Jackerman, l'ho visto. Ci siamo avvicinati molto a Ricciardo. Vediamo se posso fare il giro veloce. Lo facciamo. Benissimo. Finora questo è il miglior tempo. Ok, qui c'è la lotta per la... Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue. Gli rifili qualche secondo a giro. Vado qui su Ricciardo. Oh, contatto. Contatto su Ricciardo. Ma DRS su Ackerman. Non è finita. Non è finita con Ackerman. Adesso c'è Ackerman. Riproviamo la vecchia mossa. Ah, freno prima. Però si può provare all'esterno. Si può provare all'esterno. Oh, quasi. Quasi, ma ho dovuto alzare il piede. A cops non lo facciamo. Troppo rischioso. Ma forse all'uscita delle back-its. No, alzo, alzo qui. So che ne ho di più. E adesso si farà vedere che ne ho di più. Su Ackerman. Ackerman. Poco Ackerman. Non usiamo Ackerman. Forza. Gli facciamo il loop. Gli facciamo il loop. Non ci vuole stare Ackerman. Ma noi stacchiamo fortissimi qui. Un po' accompagnato. Ma prendiamo la posizione. Adesso c'è Sebastian. Forza. Andiamo a prendere anche Seb. Quattro giri alla fine. Non ci proviamo su Seb qui. Abbiamo carburante a sufficienza per altri cinque giri. Siamo usciti bene su Seb. Non usiamo Ackerman. Qui sopra. Il caccetto lo teniamo per il prossimo rettilineo. Staccata su Seb. Ok. Adesso abbiamo 3-9 battler. E adesso c'è da spingere. Adesso sì che si spinge. Adesso siamo in dodicesima posizione. 3-5. Dobbiamo riuscirci. Dobbiamo riuscirci. 3-1. Da Albon però. Si scappa via. 3-0. 3-3. Sono attaccati. Albon attacca battler. Ma adesso arriviamo anche noi. Arriviamo, arriviamo. Ci siamo. 2-0. Fuccia. Giro veloce. Bellissimo. Sto giro veloce. Andiamo. 2-5. Forza. 1-3 guadagnato. Su. Albon. 1-5 da battler. 1-5 da battler. Lo usiamo qui. Vai. Verde nel primo settore. Siamo attaccati a battler. Siamo attaccati a battler adesso. Siamo attaccati a battler. Più o meno. 7 decimi. Dobbiamo rifargli il The Loop. A lui. Come Ackerman. Lungo. Cavolo. Bella sta uscita. Siamo usciti bene. È il momento. È il momento. Di attaccare battler. Ah, lontano. Ma poi posso provare la stessa mossa. Si tira forte la staccata qui. E si va dentro. Bellissimo passo. Giro veloce. Un altro giro veloce. Andiamo. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 4,0 secondi. Andiamo, andiamo. Dopo non credo che riusciamo andare a prendere Perez. Ma è stata già una grande gara allo stesso. L'importante è l'obiettivo portata. Quindi l'obiettivo ce l'abbiamo. Diamo tutto qui. Vuole incrociare Albon. Non ce la fa. E ci prendiamo la decima posizione. Ottimo risultato. Ah, non c'è il taglio di veloce. Meno male. Ecco, vediamo il ritmo. Non dico di andare a prendere Perez, però... ci siamo avvicinati un pelino, un pelino, non tanto. Forza, ultimo giro. 3,2, 3,0. 2,8. 2,7. Abbiamo soltanto un tentativo all'ultimo giro. Forza, 2,7 di nuovo. Troppo. 2,1. Ci siamo, ci siamo, 2,0. Diamo tutto alla nostra Alfa Tauri. Si vede che stia andando tutto. Fuchsia nel primo settore. 1,4. Occhio. 1,4. 1,3. Ah, l'Archino. Vince Lewis Hamilton. Ah, sono lontano qua, Cops. Cavolo, 1,3. Non molliamo, ma è finita qua. Qua è finita, 1,2. Cioè, oddio, non so se è finita, però... Servirebbe... Peccato, un giro più... E l'avremo passato. Vabbè. Un giro in più e l'avremo passato. Brava bene. Ed è la gara, ci vediamo nel parco chiuso. Va bene. L'importante è che l'obiettivo l'abbiamo portato a casa. Ed è stata la Mercedes a vincere. Che gara! Molto a via! Questo è l'importante. La gara per il giovane Aiden Jackson. Vedo una promettente carriera per lui, se continua, su questa strada. Assolutamente, quella foratura non l'ha preoccupato minimamente. Immagina cosa avrebbe fatto senza quella gomma bucata. Ha stretto i denti e ha tirato fuori una prestazione eccellente. Grande gara! Non vogliamo tirargliela, ma sembra che l'Alfa Tauri di Aiden Jackson si stia riprendendo. Sarà da tenere d'occhio. È stata una gara anche questa molto bella. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa. E ne hanno tutto il diritto. Bravo, Lius. Si ha meritato la vittoria, Lius. Bravo. Cosa dobbiamo dire? Ok, post gara. Andiamo al post gara. E anche il capitolo 4 l'abbiamo finito. Bene, andiamo. Vabbè, qui tutto normale. La sfortuna, ok. Abbiamo la telefonata di Brian e dopo ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Brian. Beh, qualcuno qui è diventato famoso. Cosa? Non fare il modesto. Davvero, non so cosa tu stia dicendo, Brian. Dopo quella foratura pensavamo tutti che fosse finita, ma riuscire ad andare a punti. Wow, parlano tutti di te. Sono felice che la stampa mi noti finalmente. Beh, abituati. Hanno riservato un paio di interviste per domani. Ti ho chiamato per questo. Ok, grazie per avermelo fatto sapere. Quindi non festeggiare troppo stasera, ok? Va bene, Brian. Non preoccuparti. Andrò a visitare mia madre. Ah, ok. Beh, ognuno festeggia come vuole. Ci vediamo dopo, Brian. E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al capitolo 5. Ciao!